Oggi siamo alla partenza della 12esima tappa del Giro d'Italia a Parma, città creativa Unesco grazie alla sua gastronomia. Prepariamo un tagliolino con un prodotto d'eccellenza parmense, il culatello di Zibello. Iniziamo a tagliare il culatello. Quando sta soffriggendo per bene ci buttiamo il culatello. Quando il culatello è ben rosolato buttiamo il tagliolino in acqua. E aggiungiamo a fiamma spenta un bel po' di parmigiano. E il nostro tagliolino è pronto. E ora impiattiamo per il lungo, così. E il piatto è pronto! E il piatto è pronto!